Due volumi per raccontare Edoardo, drammaturgo, attore, regista, con testimonianze inedite di persone che hanno lavorato accanto a lui nel corso della sua lunga carriera. È stato presentato questa mattina al Teatro San Ferdinando il libro di Giulio Baffi, Effetto Edoardo, presenti fra gli altri il direttore dello stabile napoletano Roberto Andò e il il direttore della Repubblica Maurizio Molinari. Per la fondazione portiamo avanti quelle che erano le due missioni di Edoardo, da una parte la salvaguardia e la possibilità di dare un'opportunità ai ragazzi a rischio che finiscono il percorso all'interno degli istituti di detenzione, abbiamo un bellissimo rapporto con Isida e l'altro binario che viaggia sempre in parallelo è la salvaguardia dello spettacolo. Edoardo con i grandi ci dimostrano da dove ripartire, ripartire dal cuore, dall'anima e dal corpo, dalle grandi radici di questa città e dalle visioni che loro hanno saputo rappresentare a noi tutti ed è per questo che sono immortale, perché in qualsiasi epoca storica vedi e senti Edoardo e come se fosse il presente e quindi la proiezione per il futuro. Quindi grazie ancora una volta a Repubblica che in questi anni ha saputo cogliere non di raro dei momenti centrali della vita della nostra città. Il saggio è stato pubblicato dalla Repubblica Napoli in collaborazione con l'editore Guida e con la fondazione De Filippo.